Scusate, ho proprio chiesto in ginocchio all'amico Fabrizio di farmi aprire. Eh, ma perché? Perché, immediatamente, appena, non si apre mani, non sono i grandi, ma stasera sono in onda fra un'ora e stasera non faccio il tempo, solo per quello. Dove sei? Sono a Rearantio, io sono a Rearantio, dalle 19, a 20 tutta, anzi, si è finita il tempo, ascoltateci. Cioè, saranno grandi offi ultime stasera. Chi c'è? Anche io. Anche io. Anche io. Dalla, c'è da Nancy Prilly, un po' di gente a tracopini, settimana prossima anche una ciotorella, neck, guardate, holtre tempo, dai, salutare tutti tutta così nel rebotto che ho prima... ...porto, ok, no? Ciao. Ciao. Tuo giudizio sulle... È lungo dovete vedere, faccio vedere. Ah, proprio quello che si può dire. Ho facciato la valoramica, per bene, perché hai letto. Tipo un vagone? Esatto. Non ho sempre quello fatto, valoramiche che ci mettano gli occhi indietro. E poi abbiamo un'acustica, eh, che non aiuta. Eh, infatti secondo me è un po' alto, secondo me. Sì, però ho fatto questa eco per un cantante che non è troppo alto. E gli tanti al centro c'è un senso? Ti voglio aiutare, eh, non solo che per un preso che è così. Mi chiedo poi che si trova il microfono ben sentato al centro, eh. No, adesso chiediamo un tecno, sai se il tecno c'è comunque. Allora, no, ti voglio chiedere... Quanto partecipazione a Pesca? Ma siamo pazzi? Cioè sono stata quattro anni fuori casa? Allora stiamo scherzando. Poi dopo ti chiedo una cosa un po' delicata. No, vorrei chiederti il tuo dubbio sul Pesca di Sadevo. Ah, domanda cattivissima. Per ricordare bene. Allora, parliamone bene, parliamone. Diciamo che è diventato un grandissimo contenitore di intrattenimento, dove per fortuna la musica è guardata al centro, perché negli ultimi anni era un po' rimasta legata nello spazio di un grande spettacolo. Questo mi piaceva Deos essere uscito, certo? Poi, diciamo, un capitano del lungo corso e avete avuto un lungo mandato da Tarati, quando è mandato Trierland, che era il prossimo l'ultimo anno, è riuscito a rimettere al centro la musica. Poi ha fatto una grande miscellanea di sapore, questo il giovane Albano accanto al giovane Barnari, quindi ci sono veramente un po' tutte le risorse musicali del nostro pezzo, le migliori risorse, sono tutti rappresentati di colori in un grande spettacolo musicale, quindi secondo me ha fatto un grande lavoro. Superare se stesso sarà davvero, secondo me, e sarà un prossimo secondo me. Bene, bene, poi non so se devo fare una domanda un po' dedicata, vabbè, della famiglia. Un po', un po'. Ma quanto dedicata? Dai, fammela. Siete da Roma? No, no, no. Siete da Roma? Assolutamente. No, aspetta, come già mi dico, io ero più vettina, perché mio fratello, come si dice a Roma, mi collocchiava di potte, io sono siciliana, avevo un fratello, ho un fratello e un vettino, quindi su P1 c'è la presenza di mio fratello, dove vuoi essere in vettina? Appena mi sono trasferita a Roma, cioè a 16 anni di 16 anni, ho detto, bravo, ho detto, adesso scelgo la mia squadra del cuore, ho guardato, no, 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 Roma, la mia squadra è una camminazione. Esatto. Sono anche i cavaliere della Roma, sono pazzi. No, ma io ci sono questi 15. Ma per me in Sicilia poi ci sono due vettini. Voi? Due tini? Poi è felice. Non essendoci a far l'epoca una grande squadra del Serie A, si preferirono le grandi squadra. Claudio è sempre questo, eh? Claudio è rimasto Claudio. Allora, ti prenderà... la domanda delicata. Eh? La domanda delicata. No, dopo, dopo. Vi prenderà... Si. Un popolare... Vedete? No, c'è scritto ancora. Un popolare attore romano e romanista, noi lo ricordiamo... il Gallo Cagnolo, no? Non ci abbiamo vinto, no? Per un film di giorni. No, no. Lo ricordiamo. Possiamo anche ricordarlo. Quale scena? Quale scena? è quella che... per lui che si ricorda Armando Feroci che era... ha masso a te. Te ricordi che l'ultima mattina abbiamo andato, lo sai? Quando te sei sanno pieni e te sei pensato di fare siamo tutti feroci per la Roma. Te ricordi Armando Feroci che è stato a te. Sei stato a te. Sei stato a te. Viene infermiera, chiude la tenta. Niente. Che fa cazzo? Non manco questo. Eh, allora voi, Marcello Cagnelli che prenderà Silvia Salerni. Eh, così. Grazie. Vorrei leggere... Ma quello che hai scelto? Hai scelto qui. Prendi me, prendi me, prendi me. Ma perché quelli piacciono molto? Esatto. Quelli che non ho, che non sono di Roma, ma diventano... Di Roma. Capendo. Capendo. Una vera scelta. Di sonifede, narcistica, voluta. Non ti piace lo Stato. Bene. Grazie. Grazie. È l'opera di domani. Ci dobbiamo fare. Grazie. Mi piace.